Un numero verde gratuito per segnalare presunti laboratori allestiti abusivamente nelle case e nei condomini del territorio della ASL Toscana Centro. Il numero è 800-017835 e la sua istituzione è stata siglata a Prato dal presidente della regione toscana Enrico Rossi e dal sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni. L'iniziativa rientra nelle misure del Piano Straordinario per il Lavoro Sicuro, attivato dopo la morte di sette operai cinesi nel rogo della Teresa Moda il 1 dicembre 2013. Poi lo scorso 26 agosto un'altra tragedia con due operai, sempre cinesi, morti nell'incendio della Mansarda Laboratorio alla Tignamica a Vaiano, da qui l'idea di istituire il numero. E a questo numero verde diciamo a tutti i cittadini di rivolgersi se vedono situazioni che sono particolarmente anomale rispetto all'utilizzo per abitazioni civile. Il numero verde, gratuito e già in funzione, è attivo otto ore al giorno, eccetto sabato, domenica e festività. La ASL filtra le segnalazioni arrivate e le passa alla Procura della Repubblica competente per l'adozione dei provvedimenti necessari. Intanto la stretta sui controlli ha fatto salire dal 16 al 55,7% il numero delle ditte trovate in regola. Con il progetto che insieme alla Procura della Repubblica e al Comune abbiamo eseguito in una prima fase, abbiamo visitato 8.000 laboratori a Prato e poi in tutta la piana fiorentina sotto il profilo soprattutto della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per dare un dato sono stati chiusi qualcosa come 850 dormitori. Ora le verifiche proseguono, anche grazie al protocollo con l'Agenzia delle Entrate per colpire l'evasione fiscale.